Una mozione dei consiglieri di minoranza per una nuova struttura da adibire a dormitorio pubblico, aggiudicata la gara d'appalto per la realizzazione dei nuovi loculi nei cimiteri delle città e delle frazioni. La fondazione Oristano ha il nuovo presidente per il comitato della promozione turistica. A Sedilo c'è ancora la speranza che possa svolgersi l'Ardia. Benvenuti, ormai in Sardegna siamo arrivati all'86,4% dei guariti da coronavirus su un totale di 1.361 contagiati. Ci avviciniamo alla percentuale massima raggiungibile che non può superare comunque il 90%, considerato purtroppo i 131 morti. Anche oggi nessun contagio, anzi meno uno rispetto a ieri. È quanto rilevato dall'unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell'isola sono stati eseguiti 64.272 teste. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 10, di cui uno in terapia intensiva, mentre 44 sono le persone in isolamento domiciliare. Sul territorio provinciale sono 60 i casi di Covid totali dall'inizio dell'emergenza. Oltre 3,2 milioni di mascherine monouso sono state distribuite dalla Regione ai 377 comuni sardi. La ripartizione è stata coordinata dal Centro Logistico della Protezione Civile, allestito nell'area fieristica di Cagliari, in collaborazione con le associazioni di volontariato e l'agenzia regionale Forestas. Un impegno straordinario dell'intera macchina regionale, ha fermato il Presidente Cristian Solinas, con il prezioso supporto delle associazioni di volontariato al quale va il ringraziamento mio e della Giunta. I consiglieri di minoranza hanno presentato una mozione con la quale chiedono alla Giunta Luzzo di attivarsi in tempi celeri per l'individuazione di una nuova struttura da adibire a dormitorio pubblico. Vediamo. Sul dormitorio di Oristano i consiglieri comunali Francesco Federico, Maria Ovinu e Fisio Sanna, Andrea Riccio, Monica Masia, Anna Maria Uras, Patrizia Cadau scrivono al Sindaco e alla Giunta con una mozione. Riteniamo il servizio che forniva il dormitorio indirizzato a persone in situazione di estrema difficoltà e garantito in maniera assolutamente gratuita da diversi volontari fosse di grandissima valenza sociale per la nostra comunità, dichiarano in una nota i consiglieri. Un presido di civiltà per il quale siamo pronti a dare il nostro massimo contributo affinché in tempi celeri possa essere nuovamente disponibile. In città, continuano i consiglieri, esistono strutture sotto utilizzate o addirittura al momento inutilizzate che potrebbero adeguatamente essere destinati a dormitorio e ad altri servizi da mettere a disposizione per i meno fortunati. Siamo convinti che il Comune, capofila del Prusso e del distretto di Oristano, attivano i necessari partenariati con altri enti e con le realtà riconducibili al terzo settore presenti in città, con la giusta volontà possa realizzare un'offerta sociale di grande spessore, concludono i consiglieri. Intanto sulla emergenza abitativa in città sentiamo il punto di Paolo De Zogos. Un tempo le chiamavano case popolari, poi con l'evoluzione dei tempi sono state chiamate di edilizia economica residenziale. Quel residenziale per uscire dal concetto ghetizzante di popolare e poi riempie più la bocca, anche se non i contenuti. In questi tempi correnti segnati da pandemie diverse, una tira l'altra, emerge ad Oristano l'esigenza di disporre di un proprio nucleo di case d'abitazione a disposizione per le ricorrenti necessità. Ora si dà il caso che l'edificio privato di Via Palmas, impropriamente chiamato dormitorio, dopo il coronavirus non è più idoneo per ospitare i senza tetto e persone o famiglie in stato di necessità. Alle prime vittime il Comune ha cercato di trovare soluzioni temporanee, ma il problema resta quello di trovare adeguata soluzione in attesa che venga portata a termine l'indagine sul patrimonio abitativo comunale destinato a riservare molte sorprese. Per intanto l'amministrazione comunale può cercare di entrare in possesso di quel maniero chiuso da tempo posto sulla Via Beato Angelico, angolo via Canalis, dove ora campeggia una scritta vendesi. Ancora troppe barriere architettoniche in Via Petri a Oristano, seconda interpellanza della minoranza. Vediamo il servizio. Scivoli pedonali carenti e non garanti della sicurezza e della fruibilità a causa della presenza di barriere architettoniche, dossi, pavimentazione del marciapiede assente. Attraversamenti pedonali privi di segnaletica orizzontale o verticale, spesso occupati da auto in sosta, che ne impediscono la fruizione. Un'interpellanza sulla situazione nella Via Petri a Oristano era stata inviata all'assessore ai lavori pubblici del Comune nel marzo 2019, firmata dal consigliere di Forza Varis Andrea Muru. Giunge oggi una seconda richiesta di intervento, stavolta firmata anche dai consiglieri Giuseppe Puddu, Lorenzo Pugeddu e Fulvio Deriu, appartenenti al gruppo Fratelli d'Italia. Si tratta di una via quotidianamente percorsa e attraversata da numerose persone che si recano negli uffici limitrofi, affermano i consiglieri, che pur riconoscendo l'impedimento dovuto alla situazione di emergenza degli ultimi tempi, sostengono la necessità di intervenire con urgenza. A rendere impellente l'intervento specificano le difficoltà e il pericolo a cui vengono quotidianamente sottoposte le persone diversamente abili con limitate capacità motorie. Il protrarsi di un'inerzia in tal senso, concludono, imporrebbe un'attenta valutazione tanto sotto un profilo politico quanto sotto il profilo amministrativo, perché si starebbe violando il principio di imparzialità con una discriminazione nei confronti dei portatori di handicap. La legge di bilancio 2020 ha abolito la Tasi e l'Imu della IUC, prevedendo l'accorpamento in un unico tributo. L'imposta chiamata nuova Imu mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi. Il pagamento dell'imposta avviene in due rate, ossia il 16 giugno per la conto e il 16 dicembre per il saldo. Ha giudicata la gara di appalto per la realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri delle città e delle frazioni. Vediamo il nostro servizio. Il Comune di Ristano ha giudicato la gara d'appalto per la realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri della città e delle frazioni di Sili e Nuragini Edu. I lavori saranno effettuati dalla ditta Cinus di Monserratto. Alla gara hanno partecipato 14 imprese. Nei tre cimiteri si registrava ormai una carenza di posti a cui occorreva porre il rimedio, dichiara in un comunicato l'assessore ai lavori pubblici Francesco Pinna. Il piano di lavoro prevede un totale di 96 loculi da realizzare nel termine contratuale di 90 giorni. Nel cimitero San Pietro di Ristano è prevista la creazione di una batteria di loculi su tre file sovrapposte, per complessivi 45 manufatti, compresa la pavimentazione antistante in calcestruzzo cementizio armato. Prosegue l'assessore Pinna. Nel cimitero di Sili, in un'area di accente all'ingresso, lungo la strada provinciale, sarà costruita una batteria di loculi per complessivi 39 manufatti. Infine, a Nuragini Edu, nell'area destinata all'ampliamento del cimitero, si prevede la fabbricazione di una porzione di batteria di loculi su tre file sovrapposte, per complessivi 12 manufatti. La Fondazione Oristano ha il nuovo presidente per il Comitato per la Promozione Turistica. Si tratta di Giulia Canu. Il servizio. Giulia Contu è il nuovo presidente del Comitato per la Promozione Turistica della Fondazione Oristano. Subentra Adora Soru, che ha dovuto rassegnare le dimissioni una volta accettato l'incarico di assessore nella giunta comunale. La nomina del nuovo presidente del Comitato per la Promozione Turistica è stata deliberata ieri sera all'unanimità dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Oristano, che si è riunito in videoconferenza e al quale ha partecipato per la prima volta Rosanna Fozzi, nuovo componente nominato dal sindaco di Oristano. Contestualmente alla nomina del nuovo presidente è stata completata anche la composizione del Comitato per la Promozione Turistica. Ne fanno parte Massimiliano Sanna, Francesco Vino, Maria Rimedia Chergia, Nadia Usai, Gianni Ledda, Antonio Caria, Edmondo Piana, Rossella Sanna, Stefano Spada e Paolo Vacca. Nella seduta di ieri il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio preventivo 2020. Il documento contabile prevede entrate per 1.245.000 euro e uscite per 1.235.000 euro, dove le due voci più importanti sono i costi relativi all'organizzazione e gestione della Sartiglia e il contratto di servizi con il Comune di Oristano per la gestione dei beni culturali. Proprio sul fronte dei beni culturali il Consiglio di amministrazione ha deliberato la proposta al Comune della conferma della gestione dei luoghi della cultura e per ulteriori spazi e servizi. Infine è stata deliberata l'indizione di un concorso di idee per la realizzazione del logo della Fondazione Oristano. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. Mercoledì 10 giugno 2020 alle 11 verrà presentato alla stampa un consuntivo della raccolta fondi Dona anche tu, organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Oristano. Da martedì 16 giugno il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della TS Asle Oristano riavvierà l'attività dedicata alle certificazioni medico-legali. Il servizio sarà operativo tutti martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid per evitare assembramenti e garantire un adeguato distanziamento fisico e temporale. Si potrà accedere solo tramite appuntamento telefonico chiamando al numero 0783 31 70 22 da lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30 oppure il martedì e il giovedì dalle 16 alle 17.00. Le anziane ospiti dell'Oasi Francescana di Via Michelepira hanno creato un video per restare più vicine alle loro famiglie durante l'emergenza. Vediamo. Loro hanno conosciuto la guerra, fatta soprattutto di privazioni materiali e di lontananza da chi partiva per il fronte. Molte ricordano anche le epidemie di un tempo, ma non avrebbero mai creduto di dover affrontare nel 2020 un nuovo momento di distanziamento da familiari e conoscenti, eppure hanno dovuto imparare anche loro che cosa sia il coronavirus. Difficile però, a una certa età, ricordare le regole utili per evitare il contagio. Ecco perché il metodo usato dall'equipe educativa del centro è stato quello di dare le istruzioni tramite cartelli affissi nelle pareti della casa di riposo, così da avere sempre modo di poter leggere con i propri occhi i motivi delle restrizioni. E noi, supernonne, cosa possiamo fare noi per combattere questo nemico? Lavare le mani spesso è molto bene, se non tirare o tossire dentro il fazzoletto dell'avambraccio, usare solo fazzoletti di carta e una volta usati buttarli via. Non toccare occhi, naso, bocca, con le mani sporche, cercare di stare distanti almeno un metro. Ancora più difficile stare lontane da figli e nipoti, dicono le anziane nonnine, preoccupate per aver lasciato all'esterno i propri cari in balia dell'emergenza. Il video nasce soprattutto per loro, un modo per riunire le anziane signore con i propri familiari. Certo, come ogni battaglia, quanta fatica e quante difficoltà anche per noi. E più di tutto, quanta nostalgia di vedere i nostri cari. Il 15 giugno scadono i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie della regione Sardegna per l'anno scolastico 2019-2020. Ci spostiamo a Sedilo, dove c'è ancora la speranza che possa svolgersi l'Ardia edizione 2020. Vediamo. La speranza di organizzare la manifestazione c'è sempre e penso dovremo essere preparati a svolgerla nel caso in cui le condizioni e le norme cambino. E' questo il pensiero del sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, che da primo cittadino avverte la necessità di precisare una serie di passaggi avvenuti senza la sua presenza. Uno di questi l'incontro in questura tra il parroco di Sedilo Don Mongili e il questore, dove probabilmente è stata concordata la decisione di non svolgere l'Ardia. Di conseguenza, quella del religioso di non effettuare la nomina dei capi corsa in occasione delle celebrazioni di Sant'Isidoro. Un incontro determinante, svoltosi senza il sindaco, il quale è stato chiamato anche ad assumere quella di essere il responsabile della sicurezza della corsa, non trovando disponibili dei professionisti. E' stato anche maliziosamente affermato che il compito del sindaco si limita ad accompagnare il corteo dei cavalieri, un ruolo che Salvatore Pes svolge come sindaco secondo la tradizione e quindi da considerarsi sottotono. Continua la lotta dell'amministrazione comunale di Bauladu contro l'amianto. La battaglia contro la fibra killer è ancora lunga e c'è tanto lavoro da fare. Nei giorni scorsi è stata pubblicata sul sito del comune di Bauladu la graduatoria relativa alla prima annualità del bando per la concessione di contributi ai civili per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto nel territorio comunale. Sono circa 20 le richieste giunte all'ente amministrativo, di cui 18 ammesse al finanziamento, per un totale di 164 mila euro di risorse già stanziate nel bilancio comunale, che consentiranno di eliminare circa 3.000 metri quadri della fibra nociva dall'ambiente. L'importante piano di lavoro prevede un contributo a fondo perduto per un importo pari al 95% delle spese sostenute. Lo scopo primario è eliminare definitivamente l'amianto dal territorio comunale in tre anni e fare di Bauladu il primo comune amianto zero dell'isola. Nei mesi scorsi, fanno sapere dall'ente, l'attività di mappatura condotta dall'associazione Ex Esposti Amianto aveva attestato la presenza di 11.772 metri quadri di manufatti in amianto nel paese. Di questi, 682 metri quadri si trovano in zone ad alta priorità, in prossimità di luoghi di pubblico interesse, e 3.813 metri quadri nelle campagne del paese. Nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dalla promulgazione della legge che ne vieta l'utilizzo e la commercializzazione a causa dell'elevato grado di pericolosità dovuto alla dispersione di polveri nocive, la presenza della fibra killer continua ad essere un tema di grande attualità nella nostra comunità e in tutta la Sardegna, ha dichiarato il sindaco Davide Corriga. Questa preoccupante situazione ha portato la Giunta a programmare strumenti e misure straordinarie di intervento. Fino ad oggi possiamo dirci soddisfatti della risposta avuta dalla comunità. Il ruolo dei cittadini è fondamentale ai fini del raggiungimento dell'ambizioso scopo di eliminare completamente la fibra nociva dal territorio. Siamo solo all'inizio del cammino, ben consapevoli che la strada da percorrere è ancora tanta, ma altrettanto determinati a portare avanti una battaglia, purtroppo ancora attuale, a tutela della salute pubblica, ha concluso il primo cittadino bauladese. È tutto, vi lascio con le foto del giorno del contest. Sardegna riparte. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti.